Intanto sul tentativo di Matteo Renzi di formare il governo, il Movimento 5 Stelle resta sulle barricate. Il teatrino sulla poltrona del Ministero dell'Economia del governo Renzi dimostra che questo governo non ha assolutamente nessuna strategia economica. Noi invece con coerenza siamo gli unici che abbiamo la nostra strategia e vogliamo veramente eliminare e ridurre drasticamente i costi della politica e lo dimostriamo tutti i giorni.